Vieni a Puliamo il Mondo il 25, 26 e 27 settembre. È un'iniziativa di Lega Ambiente. Chi porta un amico porta un tesoro. Vieni a Puliamo il Mondo il 25, 26 e 27 settembre. È un'iniziativa di Lega Ambiente. Chi porta un amico porta un tesoro. Vieni a Puliamo il Mondo il 25, 26 e 27 settembre. È un'iniziativa di Lega Ambiente. Chi porta un amico porta un tesoro. Vieni a Puliamo il Mondo il 25, 26 e 27 settembre. È un'iniziativa di Lega Ambiente. Chi porta un amico porta un tesoro. Vieni a Puliamo il Mondo il 25, 26 e 27 settembre. È un'iniziativa di Lega Ambiente. Chi porta un amico porta un tesoro. Un'iniziativa di Lega Ambiente. Chi porta un tesoro. Chi porta un tesoro. Chi porta un amico porta un tesoro. Chi porta un tesoro. Assieme. Chi Guest marting.